Sono ancora gravi le condizioni dell'operaio che mercoledì poco dopo mezzogiorno è stato colpito alla testa da un pistone sparato da un macchinario mentre lavorava all'interno di un cantiere in via Gobbi a zona Campalto. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso del 118 e l'hanno portato d'urgenza all'ospedale All'Angelo dove è stato ricoverato in reanimazione. Al momento dell'incidente era intento a manovrare una spruzzatrice di cemento impiegata nei lavori di costruzione del sottopasso. Nel cantiere sono intervenuti anche gli ispettori dell'ospisal dell'Ulstre Serenissima cui spetterà il compito di far luce sulla dinamica. Ma non è l'unico incidente. Emanuele Busanel, 55 anni, noto gestore di un ristorante a 90 di Piave, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale per un trauma cranico causato da una caduta dalle scale. Avrebbe perso l'equilibrio per cause ancora al vaglio dei carabinieri mentre si trovava all'interno della sua abitazione situata proprio sopra il locale. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo dei carabinieri ma non sarebbero stati individuati elementi che potessero indicare la presenza di altre persone all'interno dell'alloggio.